Il Governo sarà costretto a farla? Ma questo secondo me non sono i 2 o 4 miliardi. Se parliamo di quello che è previsto per il 2017, 15 miliardi di euro di tasse in più per stare in linea, già possiamo capire che cosa ci aspetta. Non è questo il problema. Il problema è che abbiamo il Presidente del Consiglio che fa roboanti, dichiarazioni, ammetto che Zanetti è più prudente sul tema, in cui dice che l'Italia va tutto bene, le banche stanno bene, l'Italia è ripartita. Credo che purtroppo questo non sia il tema. Il tema è che l'Italia sta rallentando, sta rallentando vistosamente e i problemi sono enormi, soprattutto perché si uniscono e i problemi che arrivano da fuori. In una congiuntura in cui abbiamo tassi di interesse zero, petrolio al minimo possibile immaginabile e quindi le condizioni in qualche modo per ripartire, effettivamente credo che invece si vada a fondo.